faccio questo breve video oggi per riportarvi una truffa riguardante whatsapp girava già da due anni ma purtroppo negli ultimi mesi è stata leggermente aggiornata e resa un po più fastidiosa se così si può dire andiamo a vedere di cosa si tratta credo che tutti sappiamo come funziona un'installazione di whatsapp ma non c'è nessun problema lo ripetiamo velocemente whatsapp utilizza un codice mandato su sms e tramite quel codice autentica l'accesso e quindi la nuova installazione di whatsapp purtroppo è proprio su questo che si basa questa truffa dove vi verrà consegnato un sms da un vostro contatto in rubrica e vi verrà chiesto di comunicare quel codice sempre via sms starete ovviamente tutti pensando che è una cosa ovvia non rispondere ad un messaggio con un codice però non è sempre così immaginate che questo messaggio vi fosse arrivato da magari un parente addirittura vostro padre o vostra sorella in quel momento magari essere anche in molto impegnati e rispondere così d'impatto a questo messaggio non tutti riusciamo a stabilire se una cosa è ufficiale oppure no perciò molte persone purtroppo ad oggi cascano in questa truffa e si ritrovano poi whatsapp letteralmente rubato e senza la possibilità di poter più accedere all'interno della loro app di messaggi questo era quello che fino ad oggi conoscevamo di questa truffa ma purtroppo negli ultimi giorni sto seguendo un cliente dove il meccanismo è leggermente più evoluto nel senso che i malfattori quindi un bot un software grado al computer oppure le persone che sono dietro questa truffa non solo rubano l'accesso a whatsapp ma poi fanno anche numerosi tentativi in modo da non poter più accedere per vari giorni a whatsapp bloccando quindi la possibilità di ricevere nuovi sms oppure chiamate oltre a questo impostano anche un pin di verifica due passaggi cambiando la mail sul quale sarà possibile richiedere il pin dimenticato questo video voleva essere solo esplicativo per mettere in guardia su quello che oggi purtroppo sono gli inganni del web e vi terremo aggiornati con le soluzioni vi terremo aggiornati riguardo quello che scopriremo perché stiamo seguendo alcuni clienti e trovate tutto sulla nostra pagina facebook e sui prossimi video che faremo iscriviti al nostro canale